salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ci troviamo in un posto davvero davvero meraviglioso siamo sul lago di garda più precisamente alla baia delle sirene ragazzi un posto strepitoso cioè guardando le immagini potreste pensare tutto tranne che questo è il lago di garda secondo me ma invece ragazzi è proprio lui quindi ragazzi un location spettacolo ringrazio mia moglie per averla trovata perché l'ha cercata lei l'ha trovata lei quindi mi ha portato in questa location super fantastica ovviamente qua ragazzi volerà il mavic air 2 spero che riesca a trasmettervi il colore e tutto di questa location anche se ci sono un po di nuvole bianche che vanno a coprire il sole e quindi non si potrà magari avere una resa perfetta di quello che è il colore di quest'acqua in questa location la baia delle sirene però ragazzi non perdiamo tempo e decolliamo qua con mavic air 2 filtri nd della pg tech alla baia delle sirene sul lago di garda abrazami tutta la notte e non ci queda molto tempo più e non posso sentire la pagina lago e non posso perdere le sirene lo che qui e non solo ho sentire la passione e non posso perdere lo che qui e qui e qui e di più in questo Alla, a través della gran oscurità Hasta che mi convierta in rayos Alla, a través della gran oscurità Alla, a través della gran oscurità Alla, a través della gran oscurità In il cammino, me due a tutti che non abbiamo toccato E io non voglio descansare E' un po' di pietro, creando una canzone Non voglio perdere il ritmo E' un po' di più, più e più, 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 più Alla, a través della gran oscurità Alla, a través della gran oscurità Alla, a través della gran oscurità E' un po' di più, più e più Alla, a través della gran oscurità 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 Alla, a través della gran oscurità